ma ma non ha cambiato un altro popolo per me ma chi cazzo si mette in mezzo ma cazzo mi lanci le cose ah sei ah così ecco come funziona oh cazzo ciao hai strozzo ma sono unicidata e solo te da delito porta tutto io ho neanche votato io ho votato un po' faranno ora abbiamo capito come siamo finiti o meglio perchè cazzo per toscoporto che cazzo la mia moglie a separarmi cagato madonna ma che è stata da prima la metà grafica nel senso vedete io le due merde le ho provate fatemi tornare con quello che almeno eh la madonna sei incazzata te l'ho detto che incazzata n'era madonna nel caso in cui intasso l'entrambi oddio fede sto sparando da qui porca troia la porta questa era zofia ok tutto su tutto giù tutto un rinfiato bellissimo stavo pensando a chi cazzo prendere ero momentanamente confuso in attacco non so mai chi prende come dici curiosità sui droni i droni sono elettronici ma saltano 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 sono elettronici corrono, si arrampicano, scannano quello di chi? Twitch è un ingegnere ma nonostante ciò non sa far saltare il drone va bene va bene nascondere in mezzo alla porta d'ingresso perché hai bucato così? ma cazzo divertimento noia eh c'è cos'altro allora sono in tre non possiamo perdere quello in tre che schifo raga erano intere erano intere orca puttana madonna l'ho sentito sulle spalle e non sapevo che fosse lì e come sei morto? aaaaa sono tutti nello stesso modo perchè siete morti tutti raga? come siete morti? eeeh no beh no lo so dai nemici mi sono volati i proiettili sai i proiettili volano io non potevo proprio PORCO ho sentito eh mi ha pure colpito ma pure fatto lì no 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 non sono qua non sono qua non sono qua tranquillo ho perso ho perso ho perso no no cazzo guarda mi ha visto cazzo mia posizione è stata scoperta che cazzo ho visto? comunque da sempre ce l'ha raga non vorrei dire ma guardate che stats scappiamo solo una ha fatto 2 kg si dopo questa io basta mi arrendo e non sarai tu a convincermi sta f*** choco ma choco 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 c'è gran acquetti con